Il messignano Luca Castane Ragazzi cos'è che vi fa battere il cuore? La lara quando si spoglia nuda Allora innanzitutto tanti auguri Cos'è che ti fa battere il cuore? Guarda Taro quando spara delle cavolate enormi nelle email Allora ancora tanti auguri E nel glam del Matilda questa sera è arte con Iva Art Ciao Iva Allora questa esperienza qui al Matilda Noi siamo molto felici di averti qua Ci dici qualcosa di te? Noi sappiamo delle cose molto interessanti Tu sei primo in Italia Sono primo nelle campionati mondiali di body painting Nella categoria fluo Quindi di notte al buio con colori fluorescenti Sono l'unico italiano e settimo nel mondo Quando è nata la tua passione per il body painting? Quando sono nato Sei nato con i pennelli? Alla pancia di mia mamma con i pennelli I love you body painting Una cosa tu sai che il Matilda quest'anno Anzi non lo sai te lo dico io Il Matilda quest'anno è batti cuore Dimmi cos'è che ti fa battere il cuore Il body painting E basta? E il mio più grande amore Mai la Oh bene bene Ascolta ti piace il Matilda? Ti trovi bene qua stasera? Molto Una bella serata Bella gente E tanta tanta arte E qui in Italia dove ti possiamo trovare ancora? Milano la capitale Bene E dopo di che viaggi dove vai? Prima premetto www.ivart.it Viaggi solo Melbourne Londra, Miami Perfetto E allora noi viaggeremo con te questa sera Sui tuoi pennelli Primo di luglio Campionati del mondo 2011 Pondichini Cos'è che ti fa battere il cuore? Ah, tante cose! Chi può dire una? Di uomini L'astrologia L'amore La musica Mattia Matilda Il mare Cos'è che ti fa battere il cuore? Vai, vai, veloce, veloce! È una cosa a tempo, cos'è che ti fa battere il cuore? Lei ride, lei ride